Il caso siciliani porta ad oggi a due positivi accertati a Bitonto a casa, si stanno curando a casa e sono chiusi con le loro famiglie, parlo dei casi accertati, quelli dichiarati, per un totale di 5 positivi al Covid a Bitonto in questo momento, tutti a casa e nessun ricoverato. La mascherina è obbligatoria solo in locali chiusi, in alcune situazioni che sono specificate nel post, anche se, voglio dire, il ripeto, è fortemente consigliata da me, ma per questioni di vostra salute. Il governo ha deciso di scaricare ai sindaci la decisione se aprire i parchi o meno, però ha precisato, giustamente anche, al di là dei contagi, proprio vedendo i contagi sanitari, che nei parchi giochi, cioè per le aree ludiche, i bambini non li possono utilizzare. Quindi aprire la villa comunale, per esempio, e pensare che io poi debba stare dietro ad ogni cittadino, considerando che devono mantenere il metro di distanza e tenendo fuori e tenendo lontani tutti dall'area giochi con i bambini, mi sembra quantomeno, insomma, inverosimile. Ma in ogni caso ne parlerò questa settimana e deciderò il da farsi. Sono invece più propenso ad autorizzare, però devo parlarne con, diciamo, i nostri gruppi politici e i nostri tecnici, sono più disponibili sicuramente ad aprire i nostri cimiteri per consentire finalmente la visita ai nostri cari, ovviamente con entrate assolutamente contingentate, con dispiego, ahimè, di forze dell'ordine per registrare gli ingressi, il moto sportivo individuale, eventualmente accompagnati da minori. Questa è, diciamo, la novità che sicuramente apre tutto un altro mondo di frequentazioni sulla strada e tutte altre occasioni per qualche sconsiderato di approfittarne, così come qualche altro sconsiderato approfitterà del fatto che l'altra novità, credo quella più significativa sotto il profilo dei comportamenti sociali, che noi possiamo andare a trovare i nostri congiunti, parenti e affini. Dal 4 maggio, quando i bar e i ristoranti potranno aprire l'asporto, significa che uno ad uno può entrare nelle attività di ristorazione, prendere il pasto e portarselo a casa. Questa settimana parleremo delle nostre proposte, discuteremo delle nostre proposte, dobbiamo attuarle cercando di, diciamo, di agevolare, di favorire le passeggiate, alcune passeggiate per tempi assolutamente ristretti e limitati anche dei nostri bambini. Uno dei settori più colpiti, e di questo ne parleremo fra poco, sono proprio le agenzie viaggi, i viaggi e il turismo. Quindi forse prendiamo almeno il lato positivo di questa situazione, cerchiamo di cogliolo e diamo una mano ai nostri imprenditori, ai nostri esercenti commerciali, ai nostri ristoranti, ai nostri pub, ordiniamo a domicilio preferibilmente da loro, piuttosto che pensare di andare a farla passeggiata in qualche altro comune, che peraltro non si può neanche fare. Gli spostamenti sono ammissibili? Me l'hanno chiesto in diversi. Nella stessa regione sì, sono possibili soltanto per motivi di salute, per motivi di lavoro, per andare a trovare un parente o una fine. Per ora non riaprono i mercati di abbigliamento. Per quanto riguarda invece lo spazio all'aperto, vedremo di delimitare le aree in cui si potrà svolgere attività fisica. Detto questo, le autocertificazioni restano, dovete continuare a scrivere autocertificazioni indicando i motivi per i quali state uscendo. Per quanto riguarda, ripeto, le agevolazioni fiscali, è ovvio che noi daremo assoluta priorità alle attività che sono state chiuse per legge o comunque sono limitate gravemente per la questione legislativa, per scelte normative. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.